Beh, non so perché, ma la macchina è arrivata mezz'ora prima. Già, è opera mia. Sai che ti mancherò più di quanto mi mancherai tu. Oh, ti prego. Sotto ai tuoi due chili di trucco e mezzo centimetro di pelle tirata da tutte le parti, c'è una ragazzina sbronzetta che posso già sentire piagnucolare al telefono. Oh, Perry, sai, mi manchi. E invece tu? Oh, Jordan, ti prego, ritorna, ti prego. Ah, visto? Siamo una grande coppia. Borsa, tanto chiamerai prima tu, patetico piagnone. Contaci. Ah, da solo nel weekend. Lo so come andrà. Ciao, Perry. No, no, va via, 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 via. Oh, sarà divertente. Turk ha detto di no. Ma dicevi... Pensavo che avrebbe gradito e... Il Todd non l'ho invitato io. Che mutandoni antichi avete. A volte bisogna solo dire uffa, mannaggia. La battuta è diversa. L'ho visto in aereo. Ah.